In tutta la Sacra Scrittura notiamo sempre che coloro che sono profeti sono non ascoltati, proprio coloro che portano la parola di Dio, coloro che danno luce e verità al popolo vengono non ascoltati e questo quanto Gesù vive nel Vangelo di oggi, ma in fondo vedete il fatto che i profeti non sono ascoltati, non sono degli imprevisti, delle cose che capitano, ma è così, è strutturalmente così, il profeta non è ascoltato perché il suo messaggio destruttura, destabilizza la nostra identità, il nostro modo di intentare la storia perché ci apre a una novità, a una straordinarietà che non sempre o quasi mai riusciamo a percepire a comprendere. Ed ecco allora gli esempi di Gesù della vedova di Zarepta e di Nansiro vuole affermare in fondo che è importante mostrare l'estranietà a questo messaggio profetico che viene detto, non abituarci o non pensare che questo messaggio debba usare quei canoni che tante volte noi pensiamo. E Paolo ci dà una nota in più, cioè solo la carità ci consente di accogliere la profezia, solo l'amore a 360 gradi con tutte le qualità che lui presenta fa sì che la profezia si incarni a nostra vita, perché poi alla fine cos'è la profezia? se no la carità fatta carne nella nostra carne, perché questa è la più grande di tutte e non passa mai. Buona missio.